Mi è piaciuto tutto perché ho visto tanto entusiasmo, tanta carica e sono veramente grata e lo consiglio a tutti. Anzi, vorrei che lo facessero i ragazzi molto giovani, perché se fai questo corso è una grandissima opportunità. Mi spiace averlo scoperto adesso, perché magari avrei potuto fare tantissime altre cose, ma sono sempre in tempo. Grazie.